Intanto vi devo dire che Gianfranco ha la nostra totale adesione. Mi sono pentito di avere collaborato a fondare il Popolo della Libertà, quindi questa è la realtà. Non cambiamo le carte in tavola. Siamo tutti posti il problema Lega e abbiamo detto, bene, abbiamo parlato, abbiamo detto che bisogna discuterne a fondo. Che cosa fa la Lega? Allora parliamoci chiaro. Tutti gli uomini della Lega ogni settimana che hanno fatto la vacanza, forse dobbiamo essere un po' più cattivi noi stessi, dobbiamo impegnarci a fare la vacanza e questa è una decisione che assumeremo tutti insieme. Abbiamo lasciato l'Italia nel baratro. Nel 2001 abbiamo governato per cinque anni e fu la fine per un intervento di un ordine dello Stato democratico. E' qui il primo fatto che ci fa ancora dubitare dell'esistenza nel nostro Paese di una vera e compiuta democrazia. E ci troviamo quindi di fronte alla necessità di cambiare l'architettura istituzionale del Paese per diventare veramente tutto o meno che democratico. Abbiamo presentato il nostro programma di governo sintetizzandolo in cinque punti, cinque riforme. Chiacchiere, 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 chiacchiere. E infine la riforma della giustizia. Qualcuno ha detto stoltamente in questi giorni che noi vogliamo fare una riforma per i giudici onesti e per i cittadini. Noi vogliamo fare una riforma contro i giudici. Noi vogliamo una giustizia indegna. E quando l'altra sera, a mezzanotte, sono stato attratto da un'ammocchiata e naturalmente mi sono sentito in dovere di doverli raggiungere. Invece c'erano un centinaio di giovani del popolo della libertà che avevano scritto in lettere d'oro Berlusconi a casa.